È gratis per tutti i cittadini che hanno compiuto 11 anni il vaccino contro il meningococco C. Lo ribadisce l'azienda Asla Toscana Centro che invita gli aventi diritto a mettersi in contatto con i punti di prenotazione presenti su tutto il territorio, Firenze, Pistoia, Prato ed Empoli, e con i medici di famiglia e pediatri per la somministrazione. Per garantire lo svolgimento della campagna straordinaria, la Task Force aziendale ha messo in atto tutte le misure operative necessarie, dal potenziamento delle aperture delle sedi vaccinali all'approvvigionamento continuo delle dosi. Entro il mese di febbraio arriveranno 100.000 nuove dosi di vaccino e a marzo altre 200.000. I vaccini sono disponibili anche dai medici e dai pediatri di famiglia. Facciamo quindi il punto della situazione. Dove informarsi? Per informazioni mediche sulla meningite e per la vaccinazione, i cittadini devono rivolgersi al proprio medico. Per prenotare un appuntamento, oltre che dal proprio medico curante, ci si deve rivolgere alla propria azienda sanitaria di appartenenza. Si ricorda che è attivo anche un numero verde regionale, 855 6060, dalle ore 9 alle 15, dal lunedì al venerdì. Vaccinazione gratis. La vaccinazione è consigliata ed è completamente gratuita per i residenti o domiciliati sanitari che compiono 11 anni nell'anno 2016 e fino ai 20 anni, mai vaccinati o vaccinati con una dose nell'infanzia. Nella fascia di età compresa, tra gli 11 e i 20 anni, è prevista la somministrazione del vaccino quadrivalente. La vaccinazione è offerta gratuitamente anche ai residenti o domiciliati sanitari che hanno oltre 20 anni di età. A questa fascia di età viene somministrato il vaccino monovalente, quello utilizzato per i bambini dai 13 mesi agli 11 anni. Il vaccino è inoltre gratis per gli studenti universitari o iscritti in scuole secondarie di primo o secondo grado, o non residenti o domiciliati sanitari nell'Asla Toscana Centro, con la presentazione di un documento di iscrizione valido per l'anno in corso. Per i viaggiatori internazionali che devono recarsi in zone a rischio con età inferiore ai 20 anni, per i frequentatori delle comunità in cui è stato rilevato un caso di infezione da meningococco di tipo C, su indicazione dei servizi di igiene pubblica. Chi deve pagare? Il vaccino è offerto in copagamento alle persone non residenti che attestino che frequentano in modo continuativo il territorio toscano. Dal prossimo primo marzo la capacità di risposta dell'azienda Asla Toscana Centro alle prenotazioni verrà praticamente raddoppiata, con l'estensione del sistema informatico applicativo unico per tutto il territorio. Ogni settimana l'Asla Toscana Centro vaccina oltre 10.000 persone contro il meningococco C. In totale sono circa 150.000 le persone vaccinate fino ad oggi. Al fine di agevolare ulteriormente i cittadini saranno anche diffuse le vaccinazioni dei giornate dedicate alla vaccinazione promosse dai medici di famiglia. A Pistoia si svolgerà il prossimo 27 marzo.